È un traguardo raggiunto ma è un traguardo che va verso il futuro. Il sottotitolo della fiera si chiama Fiorisce il futuro, vuol dire che il sessantesimo è una partenza per il futuro. Il sessantesimo non è solo un guardare indietro di quello che è stato fatto e delle grosse conquiste che la fiera è riuscita ad avere negli anni, in questi 60 anni, un compleanno importante, ma sarà sicuramente il trampolino di lancio anche per il futuro. Ci sono le nuove tecnologie che soprattutto sono improntate sopra la modernità dell'agricoltore che usa i software, usa tutti i mezzi che possono essere dei trattori telecomandati, delle situazioni che possono permettergli con dei sensori per esempio di stabilire quanto sia il momento più giusto per fare i trattamenti tipo ai vigneti o ai cereali. Io lascerò molto probabilmente dopo la fiera dell'agricoltura il vertice di Ranciano Fiera perché ci sia un avvicendamento amministrativo, però abbiamo già preparato e prodotto i progetti per in favore della fiera, sperando di svilupparsi nei prossimi mesi del PNRR e con finanziamenti verso i fondi europei e con anche richieste alla regione per cercare di ammodernare e cercare di ristrutturare i padiglioni dell'entefiere.